Ci chiedono la linea da un programma di pubblica utilità, magari lo conoscete, Che l'hai visto? Un programma che aiuta a trovare le persone che sono scomparse. Vedo già in collegamento Lillo. Ciao Benedetta, sono qui per Che l'hai visto con il signor Arnoldo Fogazzari che da un po' di tempo ha perso le tracce di suo figlio, ma ce ne parlerà direttamente lui. Benvenuto signor Fogazzari. Fogazzari. Non ho capito. Roberto. No, dice ho benvenuto. Alberto. A Roberto. A proposito di, come si chiama suo figlio? Questo è molto importante. Sovatti. Sovatti? Sovatti. No, dico il nome di suo figlio. Sì. Sovatti. Sovatti. Libraci. Libraci si chiama? Libraci. Sovatti. Il nome di battesimo? No, Battone del Pucarantone. Scusi, è molto importante per noi dare indizi. Parido. Come si chiama suo figlio? Sovanni. 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 Sovanni a Libraci. Libraci. Il nome di battesimo a Libraci. Pino. Come? Pino. Pino si chiama? No, no. A Libraci. E lei ha detto Pino. A Libraci. Quindi a Libraci che è scomparso, ecco. Ci può dire come era vestito suo figlio il giorno della scomparsa? Cosa portava? Una giacca, un cappotto? Cosa portava? Corona a fiori. Una corona a fiori? Una salopetta. Una salopetta? Una fiori così. Una corona a fiori con la salopetta, quindi? Con la salopetta, ho capito bene? Con le smantaglie. Con le smantaglie. Ma era una salopetta? Sì. Una salopetta, quindi io metto corona a fiori, giusto, corona a fiori, corona a fiori e salopetta di grisaglia, di grisaglia, e salopetta di grisaglia. Questo era l'abbigliamento, ecco qua. Ci può dire, questo per me è molto importante, l'aspetto di suo figlio, cioè corporatura media, piccolo, alto, com'è? Ma gli fa una cosa a trombone. A trombone, io metto a trombone. Corporatura a trombone. Corporatura. Musetti di rosa. A trombone. Che c'aveva di rosa? Scusi, ho capito rosa. Musetti. I musetti, con i musetti rosa. Con i musetti rosa. Allora, guardi, io provo a fare l'identikit, perché è molto importante per capire, per avere indizi riguardo alla scomparsa del signor... Franco. Franco? Aveva detto Alibragi? Alibragi. Alibragi, è sempre Alibragi. Allora, il nome del ragazzo scomparso è Alibragi. E il giorno della sparizione... Tutti lo chiamano? Tutti lo chiamano? Alibragi. Vabbè, lasciamo perdere come lo chiamano. Alibragi basta il nome di battesimo. Portava una corona a fiori con una salopette di grisaglia. Questo è l'abbigliamento che aveva il giorno che è uscito di casa. corporatura a trombone, quindi diciamo né grosso né... A trombone, cioè, quindi dico bene, no? Così, puoi dire. Esatto, come ha detto lei. Con i mustini rosa. I mustini rosa. Gli ovetti. Aveva con sé degli ovetti. Quindi porta con sé degli ovetti. Ecco, chiunque di voi avesse incontrato un uomo che corrisponde a questa descrizione, vi prego, fatecelo sapere perché il signor Fogazzari è veramente disperato per la perdita di suo figlio, per la scomparsa, diciamo, di suo figlio. Grazie a tutti. Grazie Benedetta. Ciao. Grazie. Grazie.